Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un film che aspettavo con un po' di trepidazione. Non era sicuramente la pellicola che aspettavo di più quest'anno, ma ero curioso. Voglio parlarvi oggi di Cherry, titolo in italiano con aggiunta dell'innocenza perduta. Dobbiamo sempre aggiungere questi ulteriori titoletti che poco contano, secondo me. Comunque questo film mi interessava perché ha come interprete principale Tom Holland, attore che mi incuriosisce perché si sta pian piano, oltre al ruolo di Spider-Man, lanciando sempre di più in ruoli più maturi, più adulti. Ed è diretto questo film dai fratelli Russo, Anthony e Joe, registi di Captain America Winter Soldier, Civil War, Infinity War e Avengers Endgame. Dei registi che finora si sono concentrati principalmente su film blockbuster in casa Marvel ed ero curioso di vedere la loro uscita da questa dinamica, anche se hanno già diretto altri film che non ho visto. Cherry racconta, per chi non l'avesse visto ovviamente la recensione sarà senza spoiler, di la storia di questo ragazzo, perché effettivamente è giovane, intorno ai 18 anni, che si arruola nell'esercito e quando torna poi inizia ad avere problemi con la droga, rapine, eccetera. Cherry è secondo me una storia molto americana, nel senso che fa riflettere su una dinamica tipicamente americana. Si sta parlando più o meno del post 11 settembre, periodo in cui molti giovani si arruolavano, e viene descritto il metodo, diciamo la scelta più che altro, che compie questo ragazzo per arruolarsi. Diciamo che il film si divide secondo me in tre fasi, la prima parte dove viene presentata un po' la vita del protagonista, la seconda parte dedicata proprio al periodo in cui va a combattere, e l'ultima parte in cui si vede appunto la tossicodipendenza, le rapine, diciamo la parte finale conclusiva dove vengono affrontati i problemi che insorgono durante il suo periodo in guerra. Anthony e Giorgio Russo decidono di raccontarci questa storia in una maniera sicuramente stravagante, con un montaggio particolare, dividendola appunto in atti. Riescono a fare una cosa che per alcuni potrebbe essere interessante, ma per me invece è stato un po' un difetto di questo film. Ovvero mischiare tanti stili registici, tante scelte di montaggio, tante scelte registiche, di inquadratura, proprio attingendo da tantissimi stili di tanti autori e soprattutto di tantissimi generi, prendendo da cliché di vari generi e mescolandoli tutti insieme. Cosa che all'inizio mi stava piacendo, perché dava un'identità propria al film, un'identità un po' più ricercata, un'identità un po' più, diciamo, autoriale. Ma a lungo andare, secondo me, si dimostra essere questa scelta dei Fratelli Russo non così ben amalgamata. Troviamo diversi stili, montaggio veloce, molto serrato per dare tanto ritmo, oppure le tipiche fasi con rallenti, con la musica sotto senza che si senta quello che dicono i protagonisti, o i suoni ambientali, tanti cliché presi qua e là che a lungo andare nel film, secondo me, dimostrano una cosa che mi è già parsa nei altri film dei Fratelli Russo. Sono dei bravi registi, ma dei cosiddetti mestiranti, ovvero prendono una sceneggiatura e la mostrano in maniera chiara, semplice, diretta, comprensibile, però molto standard, se così possiamo dire. A parte Winter Soldier, che è un ottimo film di spionaggio, e anche Civil War, che comunque mi è piaciuto tantissimo, a livello di regia di azione, stessa cosa per Infinity War, diciamo che ci troviamo davanti, solitamente per quanto riguarda i film dei Fratelli Russo, a una regia molto standard, tipica da blockbuster, da film mainstream, e questo non è una cosa negativa, perché a volte riuscire a mettere in scena le cose in maniera chiara non è così semplice, in maniera da farle apprezzare, diciamo, a un grande, grandissimo, vastissimo pubblico. Però in questo film che voleva essere ricercato, ecco, questa forzatura, non so, mi sono sembrate forzate tutte queste scelte stilistiche, poco personali e molto copiate, non in senso negativo, perché nel cinema ci si ispira sempre ad altri, ma, diciamo, poco personali. E sommando tutte queste scelte stilistiche non si arriva, secondo me, a una vera e propria identità del film, che è sicuramente particolare, ma un particolare che non mi è piaciuto, l'ho trovato un po' forzato. Poi, ripeto, non è un brutto film, secondo me, comunque riesci a guardarlo, ma anche le tematiche su cui riflette, siccome non è che sono proprio nuove la sofferenza del soldato in guerra, la tossicodipendenza, vengono rivisitate, certo, in una maniera un po' diversa, e ora vi spiego anche perché, però si va spesso sul cliché, si vedono cose già viste, straviste in tantissimi altri film, e questo può un pochettino annoiare, ecco, in certi punti il film mi ha annoiato, anche perché dura abbastanza, due ore e venti, mi sembra una cosa del genere. Dicevo, il film si concentra molto sul personaggio di Cherry, proprio è il film su Cherry, su questo ragazzino, perché è un ragazzino. Questo è un pregio perché, ripeto, si concentrandosi molto sul personaggio, cosa che i fratelli Russo fanno molto anche nella Marvel, scrivere le scene, scrivere proprio i film intorno ai personaggi. Ecco, questa cosa è positiva perché si tratta di una storia unica, della storia di Cherry, una singolarità, ma allo stesso tempo va un pochettino questa cosa a ritorcersi contro, perché c'è un altro difetto che secondo me subentra. Le performance degli attori. Allora, Tom Holland secondo me è un bravo attore, ma è un attore da blockbuster, da ruolo, da un ruolo ben preciso, il giovane, simpatico, ma allo stesso tempo un minimo sensibile, però in film dove non si va mai troppo nel profondo. Ha fatto anche dei ruoli da più piccolo, veramente, dove era veramente bravo. E adesso, dopo il ruolo di Spider-Man, secondo me non riesce a scrollare solo poi così tanto di dosso. Nelle strade del male era riuscito a dimostrarsi più adulto. Qua, secondo me, in certi momenti ci riesce, ma in altri momenti no. Il difetto più grande di questo film è, possiamo dire, il casting. Gli attori non si sporcano mai, non si arriva quasi mai ad avere la percezione di avere davanti dei personaggi che hanno realmente vissuto un qualcosa di terribile, un qualcosa da adulti. Non arrivano mai ad essere adulti. Soprattutto la coprotagonista, la ragazza, diciamo, di Cherry, ora non mi ricordo il nome dell'attrice, però lei è veramente troppo teen, troppo giovane, a livello di trucco, ma anche a livello di performance, di espressività, di volto. Veramente troppo giovane, soprattutto anche poi quando c'è la fase di tossicodipendenza. Ecco, lì sono poco credibili. E Tom Holland anche. Tom Holland riesce un po' di più, diciamo, a dimostrarsi adulto, a far capire il passaggio da giovane ad adulto in questo film, ma rimane sempre con la faccetta simpatica da Spider-Man, che ancora qua, secondo me, non è riuscito a togliersi. Mentre invece nelle strade del male ci era riuscito già di più, qui no. E non è solo una questione di trucco, ripeto, è anche una questione di performance, anche proprio nel modo di muoversi, nel modo di recitare, non si arriva mai ad avere dei personaggi che sembrano realmente adulti. Ci sembra di avere a che fare sempre con personaggi molto, molto giovani, troppo giovani. E questo è un problema. Diciamo che non si ha l'impressione di un'effettiva crescita dei personaggi, non solo fisica, ma anche emotiva, anche mentale. E questo è un problema del film, ripeto, perché concentrandosi molto sui personaggi, questa cosa si nota tantissimo e va un pochettino a banalizzare il film. Anche se un tema che viene affrontato mi è piaciuto molto. Viene calcata la mano proprio sul fatto che lui, quando si arruola, è molto giovane. Veramente giovane. Anche il rapporto tra i due, che non vado ad approfondire per non fare spoiler, è molto giovane. E questa cosa mi è piaciuta, perché sono riusciti a far comprendere come la scelta di arruolarsi, la guerra, la sofferenza della guerra, il dover sostentarsi da soli e avere un lavoro come il soldato, che è veramente terribile, soprattutto in quegli anni, in quel periodo, tutto questo tema qua è stato trattato, secondo me, bene. Ti fa proprio osservare in certi momenti la situazione e ti fa dire cavolo, questi qua sono giovani. Cioè, io penso nel momento in cui avevo la loro età non avrei mai potuto, cioè, forse hai reagito quasi nello stesso modo, o comunque avrei sofferto quanto loro hanno sofferto, perché si trovano ad affrontare cose da adulti, però da giovani. In questo caso, quindi, la fanciullezza dei protagonisti, loro non riuscire mai a sembrare realmente adulti, serve. Però nel resto del film, quando, diciamo, si trattano altre tematiche, ecco, lì i protagonisti, ripeto, si sporcano e si sembrano troppo poco maturi. Però questo tema del giovane che affronta cose da grandi, da molto grandi, che neanche grandi probabilmente saprebbero gestire, mi è piaciuto. È uno dei temi che mi è piaciuto del film. Anche la regia dei Russo non mi è piaciuta più di tanto e le tematiche trattate non mi sono sembrate, diciamo, approfondite o non mi è sembrato che il film mi dicesse qualcosa di più, qualcosa di nuovo. Quindi, diciamo, sono rimasto deluso, perché mi aspettavo molto da questo film. Ho visto che è stato accolto anche molto bene, è piaciuto, lo trovano molto profondo, molti recensori lo trovano profondo. Personalmente, non mi sono accostato più a quelle recensioni che ne parlavano come, appunto, di un film che non raggiungeva una maturità adatta alle tematiche che trattava. E questa è una cosa che mi è spiaciuta. È un film dove il difetto principale è quello di riuscire, di voler fare tante cose, di prendere tanti stili diversi ed amalgamarli senza però avere in mente il modo di trattare tutto questo. Ecco, i russi, secondo me, qua hanno dimostrato un loro difetto, quello di essere dei bravi mestieranti, quelli che fanno... non voglio dire compitino perché sembra una cosa negativa, che prendono una sceneggiatura e la spiegano, la srotolano, la mettono in scena in maniera chiara, però senza aggiungere troppo di sé, senza essere troppo autoriali. E in questa cosa si vede nel film perché tentano di farlo, ma forzatamente, prendendo qua e là vari elementi senza riuscire ad amalgamarli bene. C'è anche un altro problema che mi ha dato abbastanza fastidio. Il fatto che di solito i russi dirigessero bene le scene d'azione, Civil War, secondo me ha delle scene d'azione incredibili, veramente valide, ecco, e anche tutti gli altri film Marvel. Qua invece, in certe scene d'azione, soprattutto nelle fasi di combattimento, in guerra, le hanno gestite male. Anche a livello di set, di costumi, di ambientazioni, di trucco, un film troppo lucido, poco sporco per le tre tematiche che tratta. Magari è stata una scelta presa consciamente, ma che, secondo me, nell'interezza del film non funziona. Film che però, ripeto, in generale non mi ha soddisfatto. Sono rimasto abbastanza deluso, sia per le performance, sia per la regia dei Russo, che non mi è piaciuta. Sicuramente a prezzo, perché è un film che si vede vuole tentare di essere un po' diverso, di avere comunque un qualcosa da dire, di essere un minimo autoriale. Cerca di fare un qualcosa di ben preciso e questo sicuramente si apprezza. Però non mi è piaciuta la finalizzazione, non mi è piaciuto come hanno cercato di portare a termine questo obiettivo. Non sono rimasto soddisfatto, mi sono annoiato in molti punti e non ho avuto quel di più che speravo di avere. Questo è il mio parere su Cherry. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, ditemi se invece a voi è piaciuto, se l'avete apprezzato molto di più, cosa ne pensate. Fatemi sapere il vostro parere qua sotto nei commenti. Non l'ho detto, ma il film si trova su Apple TV+. Magari qualcuno non lo sapeva, comunque poi in descrizione magari lo metto. Vi aspetto qua sotto nei commenti, appunto, discutiamo riguardo a questo film. Non so quando uscirà questa recensione perché ci sono vari video che devono uscire e spero di farlo uscire il prima possibile per non farlo uscire il video troppo in là rispetto all'uscita del film. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti! Grazie a tutti!